Maserati Levante Nonostante la mole, il bagagliaio non è enorme e offre 580 litri di capienza con il divano eretto. Internamente, l'abitacolo della Levante è accogliente e costruito con materiali di qualità, a parte alcune zone meno visibili fatte. Con plastiche più economiche, la posizione di guida regolabile elettricamente è comoda, così come gli altri sedili, nonostante la forma e la presenza del tunnel di trasmissione e del mobiletto centrale. Gli interni in pelle sono di classe e di qualità. I comandi sono intuitivi, la strumentazione chiara e il nuovo impianto multimediale manovrabile anche dalla pratica manopola fra i sedili funziona bene. Aggiungendo la videocamera a 360 gradi potrete addirittura osservare dall'alto il perimetro dell'auto nell'ampio schermo di 8,4 posizionato nella console. L'elemento di richiamo alla tradizione Maserati non manca ed è rappresentato dalla presenza dell'orologio digitale che trova posto nella parte superiore della plancia. Maserati Levante, motori e prestazioni Maserati Levante versione S monta un 3,0 V6 biturbo da 430 cavalli con sospensioni intelligenti dotate di ammortizzatori a controllo elettronico e molle pneumatiche. In alternativa potete scegliere le varianti a benzina o a gasolio con il 3,0 V6 da 250 o 275 cavalli. Le diverse modalità di guida, tra cui la sport, permettono alla sua mole che supera le due tonnellate di peso, di muoversi come una sportiva, per poi tornare una vera fuoristrada quando serve grazie alla modalità off-road. In base alle vostre esigenze potete scegliere ulteriormente tra i mood normal e ice, fondi ghiacciati, per farlo basta schiacciare il tasto accanto alla leva del cambio con la seconda marcia premuta. La base è quella della Ghibli, e la Levanta è dotata di un sistema a trazione integrale sviluppato da Maserati con cambio automatico, ZF, a 8 rapporti. I consumi? Il dato medio dichiarato è di 9,2 km per litro per emissioni di co2 di 253 grammi, KM, Maserati Levante, allestimenti e prezzi. Maserati Levante offre tre allestimenti a listino, sempre personalizzabili, base Gran Lusso Grand Sport. La versione base comprende aria condizionata, cambio automatico, cerchi in lega, controllo di trazione, cruise control, fendi nebbia e sedili in pelle, l'allestimento. Gran Lusso è considerabile una via di mezzo, senza sedili in pelle, e il Gran Sport è il più ricco, con Bluetooth e navigatore satellitare incluso. Se pagato a parte, costa 2204 euro. L'indispensabile retrocamera più euro 492, e gli aiuti alla guida sono optional. Il Drive-In Assistance Pack da 1948 euro include gli avvisi di involontario cambio di corsia, cruise control adattativo, frenata automatica e videocamera 360 gradi. Internamente, oltre alle finiture in pelle di serie potete scegliere addirittura la selleria in seta. Ma i prezzi? Maserati Levante S ha un prezzo base di 91.358 euro, mentre le altre partono da circa 73.000. Scopri anche Maserati Ghibli.